Siamo alla sesta corsa, il premio Manzotin, una prova per 4 anni, non vincitori, 5.000 euro in carriera, ovviamente sul miglio. All'1 è Vita, Sama Black, Davide Angeletti al 2 e TNG Far, Antonio Di Nardo al 3, Elkan S, Roberto Vecchione al 4, Exotic Febi, Guido Carpentieri al 5, Episodio Jet, Dario Battistini al 6, Elfo Sabato Di Vincenzo al 7, Hercules Thor, Warner Martellini. Solitario in seconda fila con il numero 8 Enea 3B, Alessandro Olezzo. Alignamento che deve ancora completarsi, in realtà a rete ce ne sono solo 3, ma adesso arriva anche il quarto. Intanto c'è l'errore per Hercules Thor prima dello stacco. A chiusura delle ali, prova ad insediarsi al comando Episodio Jet vi riesce in maniera tutto sommato agevole nei confronti di Evita, Sama Black, poi Elfo, poi Elkan AS, quindi TNG Far e Exotic Febi. Il gruppo è molto intervallato e si va adesso al completamento del primo quarto di gara. Con l'errore intanto per Enea 3B, 37 per i primi 400 metri, adesso c'è l'avanzata di Elkan AS che va al lato di Episodio Jet e lo impegna davanti alle tribune. Tende a passare Elkan AS, 600 in 47 scarsi ed è il nuovo leader Elkan AS davanti a Episodio Jet e quindi più indietro Elfo. Così lungo la piegata di destra con Elkan AS al comando, 1,2 e mezzo per il passaggio a metà gara, con Elkan AS in controllo, prova ad avvicinarsi a TNG Far che aveva perso un po' di terreno ed è quarto in questo momento. Il chilometro in 1,17 e 4 per Elkan AS, ora accenna a muovere Elfo al lato di Episodio Jet all'imbocco della piegata conclusiva con Elkan AS sempre leader. Elfo che guadagna, subisce l'anticipo di Episodio Jet e i tre sono in diagonale lungo la piegata conclusiva con Elkan AS davanti. Episodio Jet che è lì e ci prova, Elfo che ha perso qualche battuta e si vorrebbe riproporre, l'interno passa anche TNG Far ma la lotta è ristretta tra Elkan AS all'interno, Episodio Jet all'esterno, Episodio che attacca Elkan, Elkan che si difende sul palo, Episodio Jet che dovrebbe aver messo qualcosina in avanti rispetto all'avversario. Conquistando il primo successo in carriera dopo sette piazzamenti nelle sette corse disputate fino a questo punto ma andiamo a rivedere 2,1 e mezzo sul cronometro 1,15 e 4,15 e mezzo la media. Vedete gli ultimi metri con Episodio Jet che rimonta completamente l'avversario, gli mette il musino davanti sul palo d'arrivo ed è il 5 al primo posto davanti al 3 di Elkan AS. La vittoria per Episodio Jet è Dario Battistini e la guida al training del figlio di Naglo e Monrovia Jet. I colori sono del signor Antonio Iorno, il terzo posto per il numero 2 Etienne Gifar. Grazie. 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 Grazie.